Buongiorno a tutti e benvenuti al Tg dei Ragazzi. Partiamo subito con una notizia interessante. Parliamo di una scoperta che ha incantato gli esperti di arte e fatto felice gli abitanti dinese ad Alzano Lombardo. Durante il lavoro di recupero dell'antica chiesetta del paese è affiorato un affresco attribuito al famoso pittore Carlo Ceresa. L'affresco è dedicato alle anime del Purgatorio. L'Orto Botanico di Bergamo è sempre più apprezzato. Nel 2018 sono stati 65.000 i visitatori delle tre aree verdi che compongono l'Orto. Fra loro 7.000 studenti non solo delle scuole di Bergamo ma anche di quelle di Brescia, Milano, Mantova e Sondrio. Parliamo di scuole lavoro. La formazione professionale del patronato San Vincenzo ha aperto un nuovo laboratorio di meccanica. Il progetto introduce nuovi macchinari e un maggior legame con le aziende del settore. Grande festa a Redona perché il quartiere ha finalmente il suo oratorio. Gli spazi sono stati completamente rinnovati e vi ospitano il bar, i saloni, le aule e il nuovo campo di calcio con erba sintetica. Ascoltiamo le interviste agli abitanti del quartiere che aspettavano questo nuovo oratorio da tanto tempo. Ah, qui a Redona ci voleva, ci voleva che mancava, era un po' strettino. Vedi quante persone? Una buona notizia. In Lombardia continuano a diminuire i rifiuti e il 90% dei rifiuti viene recuperato. A Bergamo i rifiuti sono calati del 1,8% rispetto all'anno precedente. A Bergamo la raccolta differenziata è aumentata del 1,9%. Nella nostra città si riciclano il 73,9% dei rifiuti. Purtroppo non saranno fatti a breve i lavori per migliorare la sicurezza della rotonda dell'autostrada. Tutti gli automobilisti Bergamaschi sanno l'incrocio che porta al casello dell'autostrada. È molto pericoloso a causa delle grandi quantità di auto che passano ogni giorno. La regione Lombardia ha stanziato 25 milioni per sistemarlo, ma bisogna aspettare un nuovo progetto. Il progetto di restyling dello stadio di Bergamo ha avuto via libera. Ai primi di maggio si aprirà il cantiere per l'abbattimento e la ricostruzione della curva nord. È il primo passo del piano trienale di lavori previsto. Per questo l'Atalanta dovrà giocare altrove le due ultime partite casalinghe di questo campionato. Ora raccontiamo una bella storia di collaborazione con gli animali. Il piccolo Lorenzo ha un cane molto speciale di nome Red. Lorenzo ha gli abete di tipo 1 e il suo cane Red lo aiuta a riconoscere quando ha una carenza di glicemia. Il 112 è il numero da fare in caso di emergenza, ma come funziona? Le chiamate provenienti da Bergamo arrivano alla centrale di risposta di Varese, che poi contatta le forze dell'ordine o gli assistenti sanitari. Il problema è che circa il 40% delle chiamate non sono per emergenze. C'è chi chiama per avere informazioni su bollette e passaporti. Dalla classe prima A della scuola secondaria di primo grado Corridoni è tutto. Vi ringraziamo e restituiamo la linea allo studio. Ciao, sono Bob Andridi e oggi ho fatto il tecnico. Ciao, sono Giulia e oggi ho fatto il ciacchista. 1, 2, 3, Torridoni, Ale!